Il 19 maggio 2013 si è tenuto un incontro a largo perestrello tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Roma e dei cittadini, i comitati di quartiere e le associazioni del quinto municipio, ex, sesto e settimo. Tema dell'incontro la tutela ambientale, lo sviluppo territoriale, il decoro urbano e l'inclusione sociale. Sono intervenuti il candidato sindaco di Roma Marcello De Vito, i candidati all'Assemblea Capitolina Cristiano Alviti e Ascenzio Salvati, la candidata portavoce alla presidenza del municipio quinto Eleonora Guadagno. Vedete questa piazza, immaginate le potenzialità che potrebbe avere. Dobbiamo lavorarci, dobbiamo lavorarci insieme, dobbiamo progettare in maniera partecipata questa piazza. Nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno dei quartieri di Roma deve essere lasciato indietro, non perché qui abbiamo una maggioranza di persone non votanti nel quartiere, allora siamo l'ultima zona di Roma a meritarci una ristrutturazione, una progettazione di tutte le nostre aree. Tra gli ospiti dell'evento Silvana De Nicolò, portavoce consigliere del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio e Massimo Enrico Baroni, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Sono state invitate a partecipare e di intervenire anche alcune realtà associative territoriali, tra cui Oservatorio Casilino, Maranella Villaggio Urbano, Comitato di quartiere Torpini a Tara, Comunità Bangladesh, Comunità Etiope, Comunità Senegalese, Esercenti Largo Perestrello, Comitato Villagordiani, VUF Prenestino, Comitato Prenestino, Comitato Centocelle Storica, Comitato La Rustica.